Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi fanno fuori. Qui c'è il computer. Vai subito su mano. E' l'acqua. E' l'acqua. E' l'acqua. E' l'acqua che c'è. E' l'acqua. E' l'acqua che ha fatto questo bordello qua. E' l'acqua che ha fatto questo bordello. Io penso non sia la persona. Sono più persone. Ho visto anche le tracce delle ruote che vengono con la macchina a scaricare. Io ho avuto fino al 2019 ho avuto la ruote piazza altra qui. Non veniva nessuno? Cinque anni. Da 2014 fino al 2019. E' l'acqua che vengono. E' l'acqua che vengono con i punti o ne vengono? E' l'acqua che vengono con i guardi. Ci hanno visto i ragazzi con la macchina venendo di scaricare tutta questa roba qui. Io ho avuto perché non avete annunciato la polizia. C'è un'acqua che vengono con i carabinieri. Facciamo la macchina. Io? C'ha visto? No, qualcuno c'ha la macchina. Un nuovo c'ha. Sì, sì. Però buttano la roba, buttano la roba qui. Vengono con le macchine. Ma non è solo con la macchina. Vedi? Anche quella lì. C'è tutto l'opera. C'è tutto l'opera. C'è tutto l'opera. C'è tutto l'acqua che vengono con le macchine. Ma le buttano da su. Ma la buttano da su. No. Ma io li ammazzerei. La moglie che fanno così. Ma va. Ma va. Ma va. Ma va bene. Io quando sono stato qui era pulito come qua. Ma io quando sono venuto, non venivo a piangere eh. C'è stato un altro ruveno che era Panziano. Per i 70 anni. Che aveva una piccola, non questa roba qui. Piccola e mandola. E non disturbavo nessuno. Anche i ragazzi che facevano lavori al ponte. Dicevano. Sì. Se state qui. Lo mantenete pulito. Potete stare tranquilli. Ma. Guarda che pulito è ora. Non si fa così eh. 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 No. Ma questi non sono gentili eh. Ma sai che vengono i felizzingari che c'hanno occupati. Non si fa così eh. Non si fa così eh. Allora l'avevo qui. Allora l'uscita del isolotto. Non si fa così eh. Non si fa così. E' un altro ruolo. Non si fa così eh. Sì, va bene, perché non butta nessuno che leon, così... C'è una roba pesante, è la mia roba! Ah, mi sa che l'ho registratore di cassa, cosa dice? Eh sì! Ma registratore di cassa? No, non so, io non ho preso l'oro a tutte queste. Sì sì, le specie di registratore di cassa, ma le ha imballate! Invece, l'ultimi sono stati due italiani, l'ultimi che è un asidio, che ha trovato una roba per anni. Va via! Sì, vai! Guardate! Questa io la conservo, se arriva qualcuno. Ci sono stati i carabinieri, no? Dimorante, in una baracca sotto il ponte della strada Fipili, in Firenze via del Cavalaccio. Allora, a questo posto. Cordero Fipili Sper. AltruOhio Grazie a tutti